Siete pronti? Adesso seriamo sul pulmino e partiamo. Dove volete andare? Parigi? Dopo Parigi andiamo... Londra? Ah, Londra. Allunghiamo un po', però ci possiamo passare. Perché no? Va giù ancora. Dopo va giù, ma va ancora a destra. Io sto a guidare poi i belli comodi in poltrona. Ecco, sì. E io guido. Adesso vediamo. La benzina chi la paga qui, ragazzi? Ci fermiamo col cattolo. Giusto. Bene. Per i sennò non è più. Ma è il posto. Anche io pensavo di passarci. Prima o poi. Allora, mi pare che il viaggio è abbastanza organizzato. Le idee ce le avete belle e chiare. Adesso si tratta... Dobbiamo prendere la cartina a fare un po' il punto. E poi il pulmino. Il pulmino soprattutto. Scusate, c'è nessuno? Sono venuta per girare lo spot della sorridendo. Sono Roberta Scardola. C'è nessuno? C'è nessuno? Chi sei te? Roberta. Roberta chi? Roberta Scardola. Sono la protagonista del spot Sorridendo Onlus. Roberta, Roberta. Ecco qua, Roberta Scardola. 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 Sì. Scardola. Senti, va bene. Questo è il secchio. Tiè. Che... Lì già sta il pulmino. No, no, ma... Buongiorno, Roberta. Scusa, è pronto il caffè? Caffè? Caffè. Caffè? Matteo. Oh. Ma, eh... Cosa dobbiamo fare noi? Ma come che dobbiamo fare? Ci ha chiamato Massimiliano Bruno. Dobbiamo fare lo spot per l'associazione Sorridendo Onlus. Ho capito, questo lo capito. Ma in concreto, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare un pulmino, fa. Un pulmino. Noi dobbiamo fare un pulmino. Sì. Le ruote, il motore. Massimiliano. E voi chi siete? Bandiera e... Arca. Sì, stiamo a giocare a fare i pirati. E il pulmino sta lì, forza. Ragazzi, la pausa è finita, forza? A lavoro. Massimiliano ci aspetta. Dobbiamo finire il pulmino. Andiamo, dai. Buon e compressario E Vai, eccolo. Oddio! Mamma mia, che palla! Puttaccia! Pagetti! È troppo sembrato. Pronto, buongiorno, mi dica, sono Emanuela. Massimiliano e il presidente della Sorridendo Onlus vogliono sapere a che punto sta il pulmino. Che gli dico? Eh, che gli devi dire? Gli dici che il pulmino è quasi pronto. Quasi. Senti po', ma questo che è? Come che è questo? Eh, questo è in carburatore. Ah, anzi, quello. Ah! Ti serve? Carburatore! No, non mi serve. Vedi, ci avevo ragione. Il carburatore. Me voglio ammazzà. Oh, non è ora. Eh, ragazzi, facciamo miseria. Anna, ancora, ancora a sinistra. Vai! Anna, questa è a sinistra, a sinistra! Ma te? Oh, ma quella non è una forza. Anna, lo puoi a sinistra ancora? Sì. Anna, lo puoi a sinistra ancora! Anna, e a sinistra! Anna, a sinistra! Perdere l'amore quando si fa sera Quando tra i capelli un po' d'argento li colora Massimiliano E che ne è un'altra Se sei avuta a perdere tempo te ne puoi annar Ma io sono Anna Falchi Sì e io sono Gabibbo Anna Ragazzi su diamoci una mossa Basta giocare Pronto Emanuela? Avverti Massimiliano che siamo pronti Sì Ragazzi sono pronti Siamo pronti per partire Al Sorridendo Film Festival Ok Antonio sì Grazie Puoi far venire ai ragazzi Il pulmino è pronto Le chiavi del pulmino Mi raccomando Ecco le chiavi Le ho io Grazie Simone Porta le chiavi ad Antonio Dai sbrigati Sei ancora qua Questa volta ce l'abbiamo fatta Chi l'avrebbe mai detto come siamo partiti Siamo partiti Siamo partiti Sì Le chiavi Le chiavi Ho le chiavi Parigi 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 Lombra E salutate Sì però sorridete Tutti noi sosteniamo sorridendo Onlus Fallo anche tu Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.